Dopo tanti lenti avvicinamenti, una delle ship più attese del Grande Fratello sembra finalmente pronta a salpare. Nella notte tra ieri e oggi, giovedì 21 novembre 2024, infatti Elena Prestes e Javier Martinez si sono lasciati andare per la prima volta nel corso del reality show di Alfonso Signorini, trascorrendo la notte insieme nello stesso letto tra coccole, grattini e baci sul collo. I fan del GF hanno già dato la loro benedizione alla neonata coppia sui social. Scopriamo così successo e tutti i dettagli. Messe alle spalle le rispettive delusioni amorose, Elena Prestes e Javier Martinez si sono avvicinati sempre di più nel corso di questa 18esima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana si era detta innamorata di Lorenzo Spolverato, mentre il pallavolista argentino aveva mostrato un chiaro interesse nei confronti di Shaila Gatta. Quando quest'ultima e Lorenzo sono tornati dal gran hermano come vera e propria coppia, dunque Elena e Javier si sono dati mam forte, aiutandosi a vicenda, ma anche avvicinandosi sentimentalmente. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su tv, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale Whatsapp. Entra nel canale Whatsapp. Mi piace fare discorsi seri con te e confidarmi. Di sicuro tornassi indietro alcune cose che ho fatto non le rifarei. O meglio, le farei diversamente. In ogni caso, ieri ho visto tutto con distacco e ho pensato non ho più nulla da dare qui dentro. Forse è un inizio nuovo, dici? Ha confessato Javier a Elena riguardo il suo passato al GF. Nella notte, infatti, la modella brasiliana si è intrufolata nel letto del pallavolista ed ex tentatore di Temptation Island. I due si sono lasciati andare tra coccole a bracci e grattini, ma anche baci sulla guancia e sul collo. La reazione dei social. Con Lorenzo spolverato a spaccare il pubblico del grande fratello. Il geffino ha fatto discutere per i suoi comportamenti sopra le righe, ma rimane tra i più votati secondo i sondaggi. Javier Martinez sembra invece mettere tutti d'accordo. La ship con Elena Prestes è già tifatissima da tempo sul web che ha esultato nel vedere la notte trascorsa insieme dei due. Bellissimo momento, troppo carini insieme. Qui si sarebbero mangiati uno con l'altro. Loro saranno la coppia che non ci saremmo aspettati, o forse sì. Comunque per me. Molto dolci e delicati entrambi. Vuoi vedere che alla fine sono la coppia più sana, eccetera, si legge sui social, dove tuttavia non mancano i più dubbiosi. I quali ipotizzano che l'ex tronista di Uomini e Donne stia solo a sé.